e uccita latino quarantotto il magazine di balli latini più un cd con la migliore musica latina del momento tutta in versione originale salsa merengue reggaeton baciata latino quarantotto in edicola e nei negozi di dischi cd più rivista a nove euro novanta anche online sul portale latin music store punto com e su itunes